allora siamo pronti ho anche i ticket da pullare perché appunto ho aspettato che aggiornassero il banner dei ticket quindi ho anche i ticket da pullare però purtroppo la multisummon gratuita della collab monster hunter è andata a putain quindi non possiamo farci nulla ma abbiamo adesso la nuova la nuova scia di free pull di questa estate quindi vediamo vediamo che cosa succede ecco già partiamo con cloud che fa il cazzo che vuole già già partiamo malissimo vediamo se c'è almeno il perry il katy perry o o se è proprio scam ok benissimo buono guarda preferisco shaftare qui che è la multi gratuito piuttosto che shaftare poi nelle nelle pull con con seppo quindi va bene così allora tickets 49 perché non ho formato abbastanza nell'altro banner va bene andiamo prima qua facciamoci qualche ticket per riscaldare l'ambiente è nuovo capitolo a luglio dovrebbe essere prima settimana prima massimo seconda settimana come come tutti gli altri capitoli che escono praticamente inizio mese e vincent esce col capitolo quindi ora se questo banner è uscito probabilmente uscirà la seconda settimana di luglio il capitolo con vincent bene va bene il ticket 4 stelle per me oddio bella la core defender anche se già ce l'ho ce l'ho rosa quindi va bene assalto perfetto mettila su su discord poi caso mai nuova arma di seppo vedete che fa bene aspettare di pullare vedi nuova arma di seppo la shir military sword e non ce l'avevo e ho la skin wind di filotto ce l'ho io la skin wind mastery ce l'ho certo o quella di halloween che non è figa come quella che è uscita recentemente però intanto intanto va bene intanto va bene ce l'ho grazie robert nel frattempo se volete salutato youtube che verrà ricaricata comunque questa pullata quindi potete anche salvare bene altro scam sì benissimo dai dai su metodo giappino metodo giappino credo che quelli non li ho riscattati Vabbè 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 E lo Spider-Man Porta Vabbè troppe animazioni Minchia Green Megafon Vabbè Va bene va bene E' pur sempre un overboost lo accettiamo Lo accettiamo Lo accettiamo Cloud non vestito Cloud no skin No skin no party Vai Un bel Perry Stamina No Bene Va bene questi nuovi ticket me li tirerò poi dopo quando prenderò anche gli altri Qui quanti ne abbiamo? 35 Vai let's go Ovviamente non ho tanti ticket Pensavo di averne qualcuno in più Cloud non vestito Va benissimo Il metodo Spider-Mino Eh però ha funzionato il metodo Spider-Mino Sembra Sembra poco ma Sembra talco ma non è Dai Perry è schivata Guarda Perry è schivata Perry che ti Perry Che ti Perry Vabbè 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 Preferisco shaftare qui Io spero che queste siano tutte full shaftate che mi sto togliendo dal banner di Sepilot Proprio ci sto sperando Proprio spero di shaftare qui con i ticket per non shaftare Dopo Letteralmente per non shaftare dopo Proprio preferisco shaftare qui Vai let's go Bello Minchia l'uscita alla fine Ah ok 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 Il coso L'SSR Buono Ok Questo va benissimo E questo ancora Deve crescere un po' Un po' deboluccio Un po' deboluccio Allora Nella ruota siamo già dieci Però Se chi ancora vuole partecipare Vuole farlo Alexa Ricordami a mezzanotte la ruota Grazie Cucciolino Così Se c'è qualcun altro che vuole partecipare La giriamo dopo A fine serata Niente Qui altro shaftino Vabbè Va bene Va bene Lo shaftino Lo shaftino Lo shaftino Tori Inmenso Il manzotino Va bene Va bene Va bene Allora Siamo pronti per il banner che conta adesso Ok Quindi ora qui Qui adesso Dobbiamo concentrarci veramente La mia wishlist Qual è la mia wishlist Allora Electro cannon Ovviamente Per Barrett La L'arma di Zack Quella a ghiaccio Che non mi ricordo Mi hai come minchia si chiama Ecco La pressure ridge Così vi faccio vedere nel frattempo Anche come sono messo Perché non la possiedo proprio Di Zack Poi tra l'altro Non mi serve nient'altro Ma di questa Non ce l'ho proprio Poi ovviamente Il siringone di Matt Che ce l'ho soltanto Con un overboost Il yellow megaphone Di kitesit Che manca poco Per farlo rosa E poi successivamente Ho messo il collare Di red Che è praticamente L'ultimo collare Che non ho Che è quello che mi abbassa Praticamente Water e wind resist In contemporanea Quindi Perché Possiamo fare Un red Debuffer elementale Completo Ok Questa è La mia wishlist Però Ovviamente Come qui Detail Ovviamente Seppo Perché Mi serve lui Necessariamente E siamo E siamo a post Ci siamo Kpop Serpo E poi madonna Con sto gran coso Con st'estate Che c'è un caldo Mamma mia Va bene Un piccolo metodo Giappino Per cominciare Restampo Va bene Come inizio Però Ci vuole qualcosa In più Ci vuole Ci vuole Ci vuole Ci vuole Qualcosa in più Ci vuole Già subito Un'arma di seppo Adesso Una o due Armi di seppo Già adesso E' possibile Si può Si può Ecco Beh Non si può Non si può Mannaggia E' ovviamente L'arma di Glenn Nuova c'è Però Non è quello Che mi interessava Però va bene Diciamo che qui Il mio obiettivo E' più il costume Che l'arma in sé Eccoci qua Bene Cominciamo ora Con rimettere i piedi Per terra Però va bene Due media Cioè abbiamo La media di due stamp Che Dovrebbe essere La media Classica Però se mi uscissero Quattro armi di sephiroth Sarebbe ultra worth Questo pull Dai un bel perry Una bella schivata Oh bene Benissimo No Minchia Glenn E' uscito Lo sapevo Io lo sapevo Che mi usciva Glenn Che non me ne faccio Un cazzo Glenn Perché sei tu Glenn 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 Ok Due stampo Quindi qua abbiamo La garantita Però Speriamo di avere Vabbè qua possiamo Schippare Oh Attenzione No Ok Sono due di sephiroth Una di Glenn Attenzione Attenzione Una di sephiroth E' garantita Se l'altra di sephiroth E' la sua Già va bene Iniziamo a recuperare Ok Glenn va bene Over boost 1 Non mi serva niente Niente Proprio non me ne frega nulla Ecco Qua mi è uscita Aspetta Culone Un attimo Di zack mi è uscita Forse la pressure ridge Si E' lei E' lei Quindi già Over boost 1 Ed è già Over boost 1 Ah poi Esteticamente Esteticamente E' bellissimo Con questa spada Con questo effetto E' incredibile Di zack Pressure Bene 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 Qui abbiamo L'altra arma Ok E dai E così E dai E così Va bene Over boost 1 Ok Siamo a posto Posto Mi accontenterei Di un over boost 3 4 E' possibile Però Minchia Uno stamp Dammi Dammi 6 armi Di sefirot Almeno Madonna Non vuota Dai Fai un bel perry Una schivata Una pirouetta Fai quello che vuoi Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Fai Fai quello che vuoi Sì 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 Chi è Oddio Chi è Ti fa Che cazzo Ci fa Ti fa Ti fa Ti fa Nuova Nuova Non ce l'avevo Va bene Vai Uh Ciocco rosso Dai 3 Fa un culo Ho arrollato il minimo Va bene Però 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 va bene Ho una media di 2 stamp Comunque Cioè proprio Proprio mi sta trollando il gioco Ma ho una media di 2 stamp A pull Che È la media fondamentalmente Quindi ci sta Però adesso ci vuole un bel Perry Una bella schivata Con 4 armi di Sephiroth Nuove E siamo a posto Io ci credo 4 armi di Sephiroth Dai Dai Bene Perry Sì Dai Zack Fa un va bene Se è la pressure ridge Va bene Va bene Ok Va bene Va bene Va bene Va bene Lo accetto Lo accetto Lo accetto Lo accetto Va benissimo Va benissimo Dai Ultima multi Altro giocobo rosso Quindi sicuro costume Garantito Perché Superiamo Ok Perfetto Oh Mi è andata benissimo Dai Non ho speso Neanche troppo Non ho speso Neanche troppo Va bene Va bene Cloud vestito No Dai 10 armi di Sephiroth Tutte 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 dorate Tutte quante Di Sephiroth Dai Forza Dai Tutte dorate Tutte 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 Minchia Ho Un'altra Tutto Anche Tutte 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 Grazie a tutti.